Ciao ragazzuoli bentornati sul canale allora faccio questo video giusto per informarvi che ho un grosso problema perché allora innanzitutto vi faccio vedere come cazzo è messo il mio portatile non è messo molto bene quindi adesso tempo 1-2 giorni lo porto a riparare e a quel punto dipende da quanto ci mettono a sistemarmi il vetro fiesti portatili fatti con il vetro riciclato o con la carta igienica un'altra cosa ragazzuoli io settimana prossima cioè oggi è le 22 io la settimana prossima da domenica a venerdì sono a Barcellona con la gita scolastica però c'ho un video che ho già messo che probabilmente vi caricherò vi pubblicherò intorno al martedì o mercoledì quindi ragazzuoli se per 1-2 settimane sarò attivo proprio praticamente zero sostanzialmente per colpa sua quindi pace e amore ragazzi e ci vediamo quando mi sistemano il catorcio qua dietro bella voi bella